ok ciao a tutti oggi vi faccio vedere come diserbo le mie piante con nessun tipo di prodotto fitosanitario praticamente è da tre anni quattro anni quando ho iniziato il percorso biologico che ho acquistato questo aggeggio se voi vedete c'è una bomboletta di gas praticamente sono le bombole di gas quelle che utilizzano nei campeggi collegata a questa lancia e mi fa una fiamma in fondo che arriva a temperature piuttosto alte e praticamente andiamo a lessare le nostre piante e facciamo uno shock termico e quindi e quindi muoiono adesso vi faccio vedere come come funziona bisogna accendere aprire gas ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.